Il premio quest'anno si farà a Piazza Muzzi, che è la piazza antistante, il mercato coperto di Pescara Centro, una nuova location, un nuovo spazio per dare ancora più vigore a questo premio aggiunto all'ottava edizione. Tantissimi partecipanti, tantissimi premiati, tutti coloro che hanno realizzato come Dean Martin il sogno americano. Il De Brando d'Arcangelo, Maviglia, che è un neuropsichiatra di origine marsicana e si occupa degli indiani in America, Vince Scarsa, un grande produttore cinematografico televisivo e poi tantissime sorprese, un'edizione davvero da non perdere. Vi ricordo anche la mostra che ci sarà domenica sera ore 21 all'Aurum, una prima edizione di un concorso di pittura, scultura e artigrafiche, sempre in onore a Dean Martin il sogno americano.